Salve amiche e amici. Allora, ieri ho portato la notizia dell'attacco missilistico russo a Dnipro con l'utilizzo di un missile balistico intercontinentale. Ci sono alcune rettifiche che devo fare, infatti sono arrivate maggiori informazioni, dichiarazioni da parte del Pentagono, da parte della Russia, c'è stato anche un discorso, definirei, importante da parte di Putin, che analizzeremo, quindi oggi c'è parecchia carne sul fuoco. Come sempre, prima di iniziare, vi invito a iscrivervi al canale, qui sotto trovate tutte le funzioni di YouTube per sostenermi, iscrivendovi, lasciando un mi piace, facendo una donazione, abbonandovi, insomma, questi sono i pulsantini qui sotto. Vi devo riportare anche un'altra novità. Domani sera, se ci sarete, intorno alle 8 di sera ci sarà una live con un ospite speciale. Non vi lascio anticipazioni, ma vi dico che è ucraino. Quindi, allora, il 21 c'è stato, ieri c'è stato questo attacco missilistico, che fra l'altro non è stato un solo lancio. Si parla di più oggetti che hanno raggiunto Dnipro, questi sono i tracciati che vi mostro in questa immagine. I missili in particolare sono partiti da due punti diversi, da circa 700 km, poco meno il secondo di distanza dall'obiettivo. Sono circolate le immagini degli oggetti che hanno raggiunto il suolo. Si è trattato di un missile che, teoricamente, avrebbe potuto trasportare un ordigno nucleare. Poi è stato dichiarato dalla stessa Russia che era scarico, cioè era privo della sua carica. Quindi sono arrivati al suolo a velocità molto elevate, piombando letteralmente dalla troposfera o dallo spazio. Sono stati recuperati anche degli oggetti che vengono mostrati oggi, fra cui anche questo, che mostra un numero di serie che, secondo questo rapporto, parla di una componente già presente nei missili Bulava. Secondo i rapporti, almeno se dobbiamo credere a quello che è stato annunciato da Vladimir Putin, si è trattato di un missile Oresnik, un oggetto nuovo, secondo lui, che è stato testato, secondo le sue parole, testato sulla città di Dnipro. Adesso poi entreremo un po' più nel dettaglio, nel suo discorso. Molti in realtà parlano di un missile RS-26 che ha una gettata di circa 6.000 km presunta. Questa definizione, secondo Wikipedia, già lo fa rientrare nella categoria ICBM, cioè Missili Balistici Intercontinentali. La soglia si ferma intorno ai 5.500 km. Evoluzione a sua volta dell'RS-24, anche questo, che poteva essere utilizzato tramite questi lanciatori su ruote, a sua volta un'evoluzione del missile Bulava. Quindi è praticamente normale che abbia componenti dei missili precedenti. Alla fine ci saranno delle migliorie, ma come avviene spesso in ambito militare, i modelli più moderni si basano sui modelli precedenti. È normale, è una forma di standardizzazione industriale. Di cosa si tratta? Beh, di un missile che ha tre stati, due nella versione per uso da sottomarino, tre nella versione che parte da terra, e una volta che raggiunge lo spazio rilascia questi proiettili. Questi proiettili all'interno dovrebbero contenere degli ordigni atomici. E poi, al loro rientro, ad alta velocità, quando raggiungono lo spazio, qui si parla di 33 km orari, ma in realtà no, 20-25.000 dovrebbe essere la velocità raggiunta nello spazio, e poi raggiungono il terreno decelerando a causa dell'attrito. In questa immagine si vede proprio una di queste sequenze, dove vediamo che bruciano proprio per l'attrito dell'aria. Nella fase terminale rallentano un po', perché non è possibile viaggiare a quelle velocità, all'altezza del suolo. Ora, sono oggetti che hanno una precisione, qui viene riportata secondo la propaganda russa, di circa 150 metri, ma in realtà non è un oggetto pensato di assoluta precisione, perché è balistico. Quindi, trasportando, fra l'altro, potenzialmente un ordigno nucleare, la precisione non è essenziale, insomma, abbastanza dozzinale come precisione. La rettifica che devo riportare è che da parte del Pentagono sono arrivate dichiarazioni per cui la Russia ha di fatto annunciato il lancio tramite il canale ufficiale fra i due dipartimenti della difesa per quanto riguarda il programma Nuclear Risk Reduction Center, che è appunto una linea di comunicazione fra Russia e Stati Uniti che permette di avvisare in caso di lanci i rispettivi uffici governativi e così, insomma, sapere che c'è un lancio. E quindi, 30 minuti prima di questo lancio, i russi hanno avvisato gli Stati Uniti, fonte del Pentagono, come viene riportato qui. Poi si è aggiunta anche la voce di un portavoce della Casa Bianca, in cui ha affermato proprio questa cosa, che vi sto dicendo, che c'è stata una comunicazione da parte russa e che comunque l'amministrazione attuale si è comunque impegnata per continuare a supportare l'Ucraina anche con la fornitura di sistemi di difesa per eventuali missili balistici. La notizia comunque in Russia è circolata in modo ambiguo, questa è stata la diretta di ieri dopo appunto i fatti della notte, questo credo che sia il telegiornale del mattino, sono le 10.57 in Russia, da quello che vedo, e la cronista a un certo punto simula una sorta di telefonata da parte del governo, sentite? In cui una voce misteriosa le dice, guarda non devi parlare del missile balistico, è tutto segreto, eccetera eccetera, va bene, è una messa in scena. Lo stesso Peskov inizialmente aveva detto che la Russia non aveva avvisato gli Stati Uniti, che non è obbligata a farlo, poi comunque nella dichiarazione ha detto lui stesso che la Russia ha avvisato gli Stati Uniti 30 minuti prima del lancio. È vero che la Russia non è obbligata ad avvisare nessuno per i suoi lanci, però, come devo dire, c'è una sorta di accordo fra le due parti che evita anche ambiguità, perché alla fine è vero che i film di fantascienza, fantapolitica, hanno portato a certi immaginari collettivi, però, come devo dire, uno scenario fantascientifico, fantapolitico, in cui un generale qualsiasi prende e lancia missili senza avvisare nessuno potrebbe mettere in allarme tutto il mondo, voglio dire, quindi è buona norma avvisare. Ora, in queste ore ho visto una certa diatriba su quello che è definito ICBM o IRBM. La definizione in realtà riguarda il raggio di questi missili. Nel primo caso si parla di un missile balistico a lungo raggio, diciamo così, intercontinentale, e nel secondo caso di un missile a medio raggio. La soglia, per convenzione, è stabilita intorno ai 5.500 km per i missili a medio raggio, oltre per i missili a lungo raggio. In realtà l'RS-26 ha una gittata presunta di 6.000 km, quindi dovrebbe essere superiore, già dovrebbe essere un ICBM. Alla fine non importa, non è una questione di definizione, ma di gesto che è stato compiuto dalla Russia, gesto su una città ucraina, che voglio dire questo è significativo. Ora, tutto questo è successo, lo vedremo fra poco, a seguito delle autorizzazioni da parte del governo degli Stati Uniti e dell'Inghilterra e della Francia all'utilizzo dei missili a lungo raggio come Scalp, Storm Shadow e i missili balistici a tacci MS che sono stati utilizzati dall'Ucraina dopo gli attacchi di Mosca con 210 missili da cruciera e droni che, come vi ho riportato nei giorni scorsi, hanno causato decine di vittime e decine di feriti nella popolazione civile. La Russia, insomma, continua ogni giorno a prendere di mira le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, i civili e questo è un crimine di guerra, come se già l'invasione dell'Ucraina non lo fosse, voglio dire. Oltre a questo si aggiunge il fatto che la Russia colpisce le città ucraine sistematicamente. Se l'Ucraina poi risponde colpendo obiettivi strategici, finalmente ricevendo qualche autorizzazione, la Russia ci risponde con i missili balistici intercontinentali, che siano ICBM o IRBM. Lo vediamo, non è che importa più di tanto. Se un missile di questi tipi, di questo tipo, ha una cittata, un raggio di 5.000-6.000 chilometri, ci dà un'idea, insomma, che questo, per esempio, questi sono 5.000 chilometri, se parte dal centro della Russia è un missile in grado di colpire qualsiasi città europea, tranquillamente. Allo stesso modo, con 5.000 chilometri di raggio, può partire tranquillamente dalla Russia e colpire una, qualsiasi città degli Stati Uniti, della costa occidentale, tipo Las Vegas, tranquillamente. È chiaro che con questo raggio è già un missile intercontinentale, che poi si dica medio o meno, è indifferente. Fa ridere la definizione perché, lo sentiremo anche nelle parole di Putin, oggi nel suo discorso ha parlato di test con un missile a medio raggio in risposta alle forniture occidentali all'Ucraina dei missili a lungo raggio. Ok. Scalp, ATACMS, Storm Shadow, sono tutti missili che hanno raggi compresi fra i 300 e i 500 chilometri. Ok. Questi sono i missili a lungo raggio di cui parla Putin. E lui poi fa i test con un missile intercontinentale a medio raggio che ha 5.000, 6.000 chilometri di capacità. Ora, il suo discorso è lungo, dura sui minuti, lo sintetizzo un po', però mi ha fatto specie vedere la sua faccia a sinistra in questa immagine quando ha lanciato la sua operazione speciale che doveva conquistare l'Ucraina in tre giorni e poi dopo mille e due giorni di conflitto la sua faccia a destra è questa. È invecchiato un pochino, diciamo così. Ora, il suo discorso, per sintetizzarlo, perché alla fine ha detto molte cose, è che secondo lui questo test sulla città di Nipro è avvenuto in risposta alle autorizzazioni americane e francesi che questi missili americani e francesi e inglesi per poterli usare gli ucraini devono avere a disposizione tecnici e personale americano o inglese, quello che è, e che lui, se continueranno questi attacchi, si sentirà autorizzato a colpire i centri di produzione, le basi militari responsabili in Europa e dice di non forzare la mano e di non aumentare l'escalation. In particolare poi punta il dito contro gli Stati Uniti, che si sono espansi, che piazzano missili in tutta Europa, che è la colpa dell'Europa. E insomma, in tutto questo discorso assurdo e surreale, l'Ucraina viene considerata la stregua di un territorio neutro che deve essere solo conquistato. Dice che i suoi avanzano su tutta la linea, che otterrà tutto quello che vuole, e questo è sei minuti di minacce e, insomma, non sto neanche a tradurlo parola per parola, perché è un po' come dare retta a un bullo, è alla fine. Secondo lui noi dovremmo solo disarmarci, perché la Russia è la vittima della situazione, perché se ci disarmiamo la Russia si ritira, è quello che ha detto testualmente. Ora, per sintetizzare un po' il discorso che fa, da un punto di vista sintattico e di analisi del testo, è questo, è lui che invade l'Ucraina e poi se la prende con la Nato. Le risposte da parte, per esempio, del comandante in capo, delle forze armate inglesi, sono state molto decise oggi, in questa breve intervista, dice guarda Putin, se tu tocchi l'Europa, in qualsiasi punto, noi siamo pronti. La stessa notte, dice, saremo pronti quella notte a combattere. Certo, non sono discorsi proprio rassicuranti. Ora, sul discorso di Putin, prendo l'analisi fatta da Mick Ryan, che è molto incisiva, e voglio dire, ve la leggo, perché è interessante e vale la pena sentirla. Dice che Putin ha utilizzato questo missile come risposta diretta alle recenti decisioni dell'amministrazione statunitense di consentire all'Ucraina di utilizzare i missili a TACMS forniti dagli Stati Uniti contro una gamma più ampia di obiettivi all'interno della Russia. In particolare, obiettivi correlati alla campagna ucraina nella regione di Kursk. Lo sottolinea più volte nel suo discorso. Tra l'altro, ecco, questo non l'ho detto, ma ha citato proprio gli attacchi degli ultimi giorni ucraini, dicendo che se ci sono stati incendi nei depositi di munizioni o nei centri di comando, è stato perché questi droni perdono pezzi, i detriti finiscono al suolo e incendiano le classiche sterpaglie. Poi ha detto che gli incendi sono stati spenti subito, così come riporta che non ci sono stati feriti e che gli unici feriti che ci sono stati era personale esterno di sicurezza alle strutture militari. Un altro fattore determinante, continua l'articolo, è il Stato, il permesso concesso dai governi del Regno Unito e della Francia per l'uso dei missili, appunto, Storm Shadow a lungo raggio. Rientriamo sempre nella definizione. Putin sta anche cercando di sottolineare nel suo discorso che questa è stata una risposta deplorevole, ma necessaria, a causa dell'escalation occidentale che ha permesso l'uso di armi occidentali a lungo raggio all'interno della Russia. In sostanza Putin sta dicendo qui che non è stato lui a intensificare il conflitto, siamo stati noi. Ok, quindi i 210 droni emisse dalla crociera contro i civili ucraini no, no? Non facevano parte di questo discorso. Gli attacchi di ogni notte contro l'Ucraina no. Un altro motivo per cui Putin ha condotto l'attacco è stato per comunicare all'amministrazione statunitense, che in questo momento è in transizione, che non dovrebbero fornire ulteriori capacità avanzate all'Ucraina. Insomma, questo è un po' per dire che sta a rosicà, perché non ottiene i risultati che vuole. Insomma, sta cercando di far passare il messaggio che si è raggiunto il limite della sua pazienza. Un altro motivo per cui Putin potrebbe aver usato quest'arma è che forse ha ritenuto di aver bisogno di dimostrare qualcosa oltre alla classica minaccia nucleare che ha fatto negli ultimi anni, voglio dire. È evidente che a continuare, a leggere l'articolo dice, continuando a fare minacce nucleari hanno perso di, come devo dire, di drammaticità, di importanza, almeno nessuno gli dà più corda, ha deciso di fare un gesto concreto, in qualche modo. E quindi, per influenzare in qualche modo il processo decisionale politico degli Stati Uniti ed europeo sul futuro della guerra. Con questo gesto ha fatto in modo di far capire ai politici europei di non tirare troppo la corda. Insomma, questo è un po' il discorso. Comunque non sta soltanto inviando un messaggio a Washington, ma ha anche usato un'arma con una cittata di oltre 5.000 km, che potrebbe quindi essere usata contro quasi tutti gli obiettivi in Europa e nel Regno Unito. E questo è un messaggio diretto all'Europa, non solo, quindi, al loro sostegno, l'Ucraina, ma anche sulla capacità e la volontà della Russia di influenzare la politica estera della difesa e della sicurezza di tutta Europa e dell'Ucraina. Insomma, ha continuato poi a ribadire, come ho detto poco fa, che il conflitto regionale in Ucraina è stato provocato dall'Occidente, che ha assunto adesso elementi di natura globale. Ha sottolineato poi che la Russia, insieme all'Iran e la Corea del Nord, deve essere considerata come una sorta di blocco unico e che l'Occidente deve rispettare questi elementi autoritari, in sostanza. Quindi, sì, allora, tutto questo, mentre appunto il suo scherzetto di ieri, che gli sarà costato una sessantina, una settantina di milioni di dollari, se consideriamo che ognuno di quei missili hanno lanciati sei, almeno, costa almeno una decina di milioni di dollari, quindi la situazione in Russia è tremenda. Il rublo è schizzato a 103,25 dollari oggi, potere di acquisto zero, si stampano i soldi in stile grillo, probabilmente, per dire, no, quando sei povero, che fai? Ti stampi i soldi. Tipo, questa è la prima lezione di economia che si impara a scuola, che è sbagliato se ti stampi i soldi, non funziona così. Quindi, in ogni caso, ecco, nel frattempo, nella regione di Kursk, un milione e mezzo di persone, quelli che sono rimasti ancora a viverci, sono senza acqua, luce, riscaldamento. Tanto per citarne un'altra, che non se ne parla quasi mai, l'aviazione civile russa è in ginocchio, letteralmente. In questo articolo, vi passo il link in descrizione, questo giornalista parla del fatto che gli aerei civili russi non decollano, stanno fermi ai blocchi, in particolare i vecchi modelli, che sono stati aggiornati con motori occidentali, così come tutta la linea Airbus, e i biglietti, il costo dei biglietti è salito alle stelle. In tutto questo, la Russia continua, come dicevo, i suoi attacchi indiscriminati contro la popolazione civile, e non anche sulla linea del fronte, con munizionamento come questo. Questi sono, appunto, proiettili che vengono scagliati in giro, e gli effetti si vedono sugli edifici, questi fori. Per quanto riguarda la notizia di ieri, che vi avevo riportato nel video, come sempre poi in Italia c'è qualcuno che non sa come stanno evidentemente realmente le cose in Ucraina, in tutta la zona occupata dai russi. Per gli ucraini è fondamentale utilizzare mine, anti-uomo e anti-mezzi, anti-carro, nelle zone occupate dai russi. I russi per quasi tre anni non hanno fatto altro che disseminare l'intero territorio ucraino di questi oggetti, e di questo ne ho parlato nei video di ieri, almeno l'ho soltanto scalfito perché ci sarebbe da parlarne per giorni. Con l'attacco ucraino dell'altro ieri a Marino, nella regione di Kursk, comunque viene riportato da più fonti, e qui si cita un articolo di Spai Dossier, che a differenza di quello che ha detto Putin, in cui diceva che non ci sono state vittime, non ci sono stati feriti, e che i militari stanno continuando a lavorare nella regione di Kursk, in realtà 18 militari, per lo più alti ufficiali, sono stati colpiti nella struttura. Fra i feriti ci sono anche soldati della Corea del Nord. Proprio dei soldati della Corea del Nord, come fattore scatenante per le autorizzazioni occidentali all'utilizzo dei missili da crociera, ne ho parlato ieri, l'altro ieri, nel senso Putin può accusare l'Occidente di fare l'escalation, ma è stato detto in più parti, da tutte le parti, sia in America che in Inghilterra che in Francia, che queste autorizzazioni sono state concesse all'Ucraina proprio per lo schieramento di soldati nordcoreani da parte russa, il che insomma è a tutti gli effetti una cosa senza precedenti. A proposito di questo discorso, non posso mostrarvi le immagini, ma ci sono caduti fra le file dei soldati nordcoreani, ci sono alcuni video e alcune immagini realizzate da soldati ucraini che mostrano questi soldati della Corea del Nord a terra. Nel frattempo, l'Ucraina, come vi avevo accennato i giorni scorsi, continua a realizzare la sua versione del missile da crociera, per cui si può parlare dell'Occidente, di Escalation quanto ci pare, ma comunque l'Ucraina sta provvedendo anche da sola per i propri equipaggiamenti. E così continuano anche gli attacchi con droni, questo non è un tramonto a Krasnodar. Allora, situazione al fronte. Sottolineo ancora le parole di Putin nel suo discorso in cui ha detto che i suoi soldati avanzano su tutta la linea. Nella regione di Kursk, al 21, quindi a ieri, come vi avevo accennato, c'è stata una riduzione del controllo ucraino nel settore a nord-ovest qui. Ma come nel gioco delle tre carte riguadagnano posizioni a nord-est? Come vi ho sempre detto, in quest'area le truppe ucraine lavorano molto di mobilità, fanno incursioni, non ci sono trincee, tutto molto dinamico. Quindi, sì, questa è la situazione nella regione di Kursk. Spostandoci altrove e per circa un migliaio di chilometri non ci sono variazioni. Al contrario di quello che ha detto Putin, che i suoi soldati avanzano su tutta la linea. In realtà, nella stragrande maggioranza del fronte, i suoi soldati non avanzano di un millimetro e non lo fanno da diversi mesi. Anzi, in attira addirittura in alcuni punti perdono settori, come a Voyncharsk. Tutto molto ben documentato. All'Ipsi, anche qui, vediamo un leggero avanzamento ucraino, il 19. Per quanto riguarda le azioni offensive russe, sembrano aver raggiunto uno stallo nella zona est e poi scorrendo il fronte ci sono pochissimi progressi. L'area di Chasiviar, che era quella un po' più preoccupante, è ferma da ormai da settimane. C'è stato qualche progresso un po' più a sud, ma quella che sembrava una disfatta imminente con il superamento del fiume in realtà ha raggiunto una sorta di stallo. Così, a Toresk, con un lavoro enorme da parte dei battaglioni Azov che combattono casa per casa, qui in quest'area veramente i combattimenti sono molto serrati, accesi. C'è stato un leggero guadagno di posizioni da parte russa con alcuni isolati, come vediamo in questo settore. Nella direttiva verso Pokrovsk, anche qui, lo ricordo, Pokrovsk veniva data per caduta un mese fa, più di un mese fa, settembre, si parlava di un approccio imminente delle forze russe in città. In realtà la situazione ormai è considerata stabile su questa linea dove gli ucraini tengono e addirittura c'è stato un piccolo guadagno proprio qui con l'azione di Leopard, droni incendiari, truppe in contatto, artiglieria, come vedete sono campi ma ci sono delle fortificazioni. più a sud la situazione lo sapete non è delle migliori i russi sono riusciti a raggiungere questo centro abitato dove si sta combattendo c'è stata un'azione un airstrike quindi un'azione aerea ucraina proprio in centro nell'area di Kurakove i russi si sono attestati nella zona nord della città separata da questo ponte e nella zona est quindi è probabile che nei prossimi giorni si vedranno combattimenti più massicci in quest'area poco più a sud est ci sono stati dei piccoli progressi russi il 22 e il 21 ma sempre con geolocalizzazioni che parlano di perdite il 19 il 21 il 21 tutti questi sono mezzi distrutti colpiti da droni che finiscono su delle mine quindi anche qui ricordiamoci il ruolo delle mine e niente quindi questa è la situazione al fronte per quanto riguarda la cosiddetta escalation da telegiornale per concludere anzi per tornare ai discorsi di telegiornali visto che oggi purtroppo ne ho visto uno e tipo in tre minuti ho sentito la parola ipersonico tre volte ed escalation un paio di volte non l'ho detto a proposito dei missili intercontinentali non possono essere classificati come missili ipersonici nel senso non hanno un motore esotico sono missili balistici sono veloci perché raggiungono lo spazio per forza di cose vanno oltre Mach 5 quindi si oltre Mach 5 tutto quello che supera Mach 5 è considerato ipersonico ma non hanno un motore esotico quindi sono missili balistici tradizionali come lo erano le V2 tedesche della seconda guerra mondiale anzi funzionano praticamente allo stesso modo e così anche se parliamo di escalation una cosa che abbiamo visto in questi quasi tre anni è che le azioni del cremlino scatenano reazioni esattamente contrarie a quelle che vogliono ottenere vogliono provocare vogliono spaventare l'occidente e l'occidente si spaventa e non fa altro che armarsi aumenta il supporto all'ucraina Putin porta 10.000 soldati nordcoreani poi ne vengono annunciati 100.000 è chiaro che l'occidente in una situazione del genere non la vuole non la vuole neanche immaginare e quindi concede qualcosa all'ucraina più azioni farà il cremlino più evidentemente l'occidente vorrà supportare l'ucraina è un po' questo il ragionamento non a caso la romania ha firmato un accordo per 32 f35 e voglio dire se non è esattamente quello che non vuole Putin una cosa del genere fatemi sapere insomma quindi per oggi è tutto come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate mi raccomando domani sera siate presenti ci sarà un grandissimo ospite in live domani pomeriggio pubblicherò appunto le anticipazioni e un abbraccio alla prossima un abbraccio a un abbraccio